Buongiorno direttore, anche io volevo fare la stessa domanda che ha fatto prima il collega Mazzoni perché oltre a quanto ha detto in esordio, ovvero che migrazione e terrorismo rappresentano le maggiori minacce per la nostra sicurezza, poi lei durante il suo intervento ha detto che state verificando se ci sono legami tra rotte di clandestini e terrorismo. Quindi io le faccio secca la domanda, il terrorismo frutta il traffico dei clandestini o come si vuole dire nelle ultime ore in Italia dei sedicenti profughi per il finanziamento dell'organizzazione terroristica o anche per infiltrare soggetti appartenenti al terrorismo nelle rotte? Seconda domanda, lei ha parlato che queste organizzazioni criminali erogano dei servizi tra cui passaporti falsi, il trasporto e il trasferimento di denaro. Lei ritiene che i servizi di money transfer in Italia presentino delle palesi criticità in ordine a una mancanza di tracciabilità del denaro trasferito. Infine l'ultima domanda, rotta dei Balcani, l'UE lo scorso anno ha fatto un accordo con la Turchia per interrompere la rotta dei Balcani. Qui presso il comitato Schengen dei dirigenti del Ministero dell'Interno ci hanno rivelato che invece la rotta dei Balcani non è assolutamente interrotta ma che è sostanzialmente operativa con particolare riferimento a afghani e pakistani. Tanto è vero che abbiamo dei dati inconfutabili in Italia, abbiamo delle richieste di asilo soprattutto di pakistani che superano enormemente i dati di coloro che sono sbarcati. Quindi le equivalenze ci sono dei pakistani che entrano attraverso la terra e quindi attraverso la Slovenia e attraverso l'Austria. Voi siete a conoscenza di questo fenomeno, l'avete verificato, quali sono le cause? C'è un'assenza o un'inefficacia dei controlli in ordine all'attuazione di questo accordo tra UE e Turchia? Grazie.